Oggi in Edicola, Rassegna Stampa Martedì 9 luglio, buongiorno, bentrovate al nostro appuntamento con la Rassegna Stampa come prima cosa andiamo a confrontare le prime pagine dei quotidiani locali partiamo dal Corriere Romagna che in primo piano ci riporta la tragedia dei due coniugi con l'auto nel Po femminicidio Lorena era senza vestiti, questo è il titolo del Corriere trovate tracce di sangue sulle scale del condominio dove viveva e poi l'altra tragedia che ha sconvolto la comunità sempre nella giornata di venerdì l'autopsia su madre e figlio, la mamma che appunto si è gettata dal quinto piano con tra le braccia il figlio letto di sei anni le altre notizie di prima pagina sgomberata l'ex nuova questura ed è così l'avvio di una nuova era in taglio alto la politica verso le elezioni regionali ugolini in campo per un progetto civico i partiti di centrodestra pronti a sostenere l'ex sottosegretario all'istruzione di Monti nata a Rimini con una carriera in realtà che l'ha portata prevalentemente a Bologna ma che ha avuto anche diversi e importanti ruoli nazionali sempre dalla prima pagina del Corriere hotel da incubo, diversi casi che sono stati segnalati negli ultimi giorni servono controlli sulle stelle si legge sulla prima pagina del Corriere poi la Megarissa in strada dopo la discoteca in via Toscanini sono stati controllati in particolare i denunciati tre giovani e poi ieri parlavamo anche tramite le rassegne stampa di una entusiastica amministrazione comunale non solo quella di Rivini ma in generale del territorio contenta per la notte rosa oggi arrivano le voci un po' dissonanti in particolare il Corriere riprende ciò che dice l'albergatrice Leardini Rita Leardini del gruppo riccionese proprio di questa importante realtà turistica notte rosa ora basta l'albergatrice frena, dice frena le prenotazioni e attira troppi malintenzionati di spalla poi troviamo qualche anticipazione di sport per quello che riguarda la Rimini Calcio Colombi guida il Rimini verso il futuro e poi le Olimpiadi con Rimini che va a Parigi con Crociani nel triathlon si parlerà anche di danza all'interno del Corriere grazie a questo concorso Nureyev che torna a Rimini dalla prima pagina del Corriere alla prima pagina del resto del Carlino Lorena è annegata o era già morta? questa è la domanda inquietante che c'è sul giallo dei due coniugi oggi l'esame sui corpi della coppia finita con l'auto nel Po resta aperta l'ipotesi del femminicidio invece sulla mamma e sul figlio precipitati dal tetto l'autopsia potrà stabilire se anche il bambino aveva assunto farmaci prima del volo blitz della polizia di stato leggiamo a centro pagina che ha liberato l'immobile della questura dagli sbandati ha aperto il cantiere entro ottobre sarà completata la demolizione il titolo oggi del Carlino è lo sfratto e poi la notte rosa qui la riflessione è di Carlo Andrea Barnabè dice il bilancio della festa ma nella notte rosa chi ci guadagna? risse in strada, stazioni blindate l'ostinazione di chi continua a difendela si scontra con una realtà che non è neanche più sostenuta dalle cifre molti dicono di aver lavorato meno che nel fine settimana precedente quindi insomma le voci critiche sono le più diverse anche qui la politica a livello regionale la troviamo di spalla la riminese Elena Ugolini si candida per la regione e poi si torna all'investimento mortale avvenuto a Nova Feltria ciclista investito, donna indagata per omicidio stradale a Bellaria un'altra notizia di cronaca fa il bagno dopo pranzo stroncato da un malore in taglio basso da una parte si parla di turismo stranieri in crescita dopo l'addio dei russi e poi si parla anche della questione della vecchia pescheria in particolare dei locali della vecchia pescheria che hanno veramente segnato una stagione molto florida delle presenze in particolare dei giovani nel centro storico chiusi e in vendita ai locali della pescheria nel cuore della Movida insomma anche qui le cose cambiano ma torniamo sulle pagine delle Corriere e andiamo ad approfondire alcune delle notizie in particolare partiamo proprio dalla tragedia dell'auto finita nel Po che ha insomma una morte tragica per due persone però bisogna capire che cosa veramente è accaduto e soprattutto Lorena la moglie in che condizione era quando l'auto è andata a tutta velocità nel Po nei pressi di Cremona Lorena in auto in biancheria intima uccisa diciamo che qui non viene usato neanche l'ipotetico ma viene data una certa certezza in questo titolo prima di lanciare l'auto nel Po tracce di sangue nelle scale del condominio dove viveva con i figli oggi l'autopsia potrebbe chiarire i dubbi indizi nuovi per quella che è una doppia indagine per omicidio aperta sia dalla procura di Cremona che da quella di Rimini dove il caso seguito dal magistretto di turno Paola Bonetti è ora passato al sostituto procuratore Bertuzzi competente per i cosiddetti codici rossi sì perché la morte di Lorena 53 anni appare un femminicidio seguito da un suicidio quello del suo ex compagno Stefano Derrey di 55 anni l'autopsia lo dicevamo sarà effettuata oggi a Cremona e poi si torna anche a parlare di queste gocce che sono state individuate dai carabinieri sulle scale del condominio di via Terranova dove la Vezzosi viveva insieme ai figli e non lontano dalla mamma e dalla sorella pare abbastanza accreditata la tesi secondo cui la donna sia stata attirata fuori di casa dall'ex marito con una scusa non certamente consapevole di un viaggio di oltre due ore presumendo che in via Terranova a Sant'Arcangelo l'uomo fosse arrivato intorno alle 16 del pomeriggio le ore da ricostruire restano due infatti dalle 16 alle 18 perché poi dalle 18 alle 20 sarebbe stato in viaggio verso Casal Maggiore in quelle due ore prima di mettersi in macchina potrebbe essere accaduto di tutto e dicevamo l'autopsia sul corpo di mamma e figlio nessun maltrattamento in famiglia da chiarire l'eventuale assunzione di farmaci prima che Graziana si lanciasse nel vuoto con Manuel ci sono le dichiarazioni oggi dell'avvocata Elena Guidi che la seguiva nelle pratiche di regolamentazione affidamento del bambino dopo la separazione dal compagno diceva una mamma premurosa dolce innamorata di suo figlio l'uomo subito dopo i fatti è stato ascoltato per 5 ore dalla squadra mobile di Rimini che ha escluso ogni coinvolgimento dell'ex compagno nella tragedia che gli ha portato via anche il figlio la coppia era in crisi da tempo ha detto all'avvocato il rapporto tra i due era burrascoso il clima in casa poco sereno Graziana era una donna perfettamente lucida aderenta alla realtà aveva intrapreso un percorso da una psicoterapeuta per combattere la depressione ma la famiglia non aveva mai dato avvisaglie sulla profondità del malessere che l'aveva colpita e ora con questa notizia invece torniamo in regione anche se in realtà insomma ci sono anche elementi che poi ci riguardano da vicino la prima notizia ci porta sulla via Cervese con una tragedia mortale un calciatore 21enne che perde la vita in un incidente con lo scooter si tratta di Alberto Stefano che stava viaggiando da Cervia verso Cesena gigante buono nella difesa del Cervia e volontario ai giovani in difficoltà questo è un po' il profilo della vittima e poi sempre parlando invece del nostro territorio turismo la primavera è da record ma solo grazie agli arrivi dall'estero arrivano in mai così tanti pernottamenti dal 2000 quasi 1,4 milioni l'aumento di stranieri compensa il calo degli italiani diciamo che a livello provinciale gennaio-maggio fa segnare un più 14,6% rispetto al 2023 ma anche un piccolo ma significativo più 2% rispetto al 2019 poi se si va invece a leggere i dati del capoluogo intanto si verifica come la copertura di presenze superi la metà delle presenze turistiche complessive attestandola al 56% e c'è questo record appunto dei pernottamenti un altro motivo di soddisfazione arriva dai numeri dei pernottamenti esteri aumentati non solo dal 2019 ma anche rispetto all'anno scorso in mezzo ricordiamolo c'è stato lo scoppio della guerra in Ucraina infatti praticamente ha zerato il turismo russo ma sono arrivati tanti altri mercati molto interessanti tant'è che insomma le presenze turistiche straniere corrispondono a circa il 36% del totale delle presenze nel capoluogo stiamo sempre parlando del capoluogo tant'è che arrivano anche delle considerazioni da parte del sindaco di Rimini che dice abbiamo capito che non ci si può più basare esclusivamente sull'estate non ci si può più basare solo su un turismo di prossimità quindi degli italiani che vivono anche tante difficoltà economiche è evidente che se si punta sul turismo straniero bisogna sviluppare gli hub di riferimento anche per arrivare sul territorio in primis l'aeroporto e poi parla anche degli alberghi e delle spiagge città 15 minuti per metà gli alimentari sono a due passi solo per 4 residenti su 10 è una ricerca che è stata pubblicata sul sole 24 ore i dati sono nella media nazionale per il territorio provinciale che si colloca al 39esimo posto nel capoluogo si tocca il 48% di negozi di prossimità quindi diciamo che nel capoluogo va meglio che nel resto della provincia per cercare pescherie panifici macellerie a pochi passi da casa dalla graduatoria in particolare commenta l'assessore delle attività economiche Iuri Magrini emerge in modo chiaro che il territorio riminese riesca a mantenere ancora un equilibrio tra servizi di vicinato ed esigenze turistiche insomma tra il paese diciamo così e la città metropolitana con questo equilibrio abbastanza instabile che purtroppo conosciamo molto bene ex nuova questura sgomberata la demolizione entro ottobre intervento delle forze dell'ordine ieri mattina per liberare la struttura di Viogo Bassi dagli abusivi che la occupavano e poi ci sono anche le dichiarazioni di Asi che proprio ieri si è presa il cantiere anche con l'arrivo dei primi operai che poi faranno la demolizione e dicono dalla società riconsegneremo ai riminesi un pezzo di città rinnovate e lo faremo con aziende del territorio diciamo che la demolizione appunto dovrebbe avvenire in pochi mesi essere completata in pochi mesi sappiamo anche che parte del materiale della demolizione sarà in qualche modo trasformato sul posto e utilizzato per il nuovo il nuovo per ricostruire il nuovo la prima fase di lavoro dice proprio D'Adalto che è responsabile del progetto Rimini Life prevederà uno svuotamento delle parti interne poi appunto si procederà con la demolizione infrazione al semaforo attenzione nuova telecamera in piazzale Gondar quindi siamo all'intersezione tra Viale Regina Elena Viale Regina Margherita e Via Rimembranza è quella che arriva da Monte Amare il sistema di rilevamento sarà automatico e dal 10 di luglio quindi da domani verificherà sia il passaggio con il rosso ma anche il superamento della linea di arresto entrambe queste infrazioni saranno multate Rissa tra 20 giovani in strada dopo la discoteca identificati i primi tre era avvenuta tra venerdì e sabato in Viale Regina Elena dove sono volati calci e pugni colpi di spranghe New Jersey stradali di Velti e lanciate una notizia che vi avevamo raccontato pare un litigio tra donne abbia innescato le botte e quindi insomma è successo un po' di tutto gli agenti della squadra mobile della squadra volante della questura sono riusciti per ore a identificare tre uomini di etnia assinti due di loro la sera degli scontri sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso hanno 30 e 34 anni quindi neanche insomma giovanissimi e poi c'è la notte rosa dei carabinieri con l'arresto di tre persone servizi di controllo straordinari per l'arma in occasione dell'evento arrivano anche 14 denunce ci sono diversi casi insomma gli arresti legati anche al spaccio di sostanze stupefacenti e poi ancora hanno altri due casi hanno strappato dal collo di un cauetane una catenina d'oro ma i carabinieri sono prontamente intervenuti riuscendo a bloccarli e sventando la rapina e la notte rosa chiaramente ha lasciato anche tanti oggetti in giro soprattutto rifiuti anche mal riposti si sa quando c'è tanta gente sa di fatto che ci sono state le pulizie dopo il capodanno dell'estate portate avanti da era con oltre 140 operatori a garanzia del decoro urbano dopo lo svolgimento della Kermess sono state impiegate 18 spazzatrici quindi insomma ce n'è stato di lavoro hotel da incubo se ne è parlato anche nei giorni scorsi controlli sulle stelle un albo professionale per albergatori sono le proposte di Rinaldi Scarasso e della Vista dopo il caso denunciato da una coppia di turisti cosa dice Patrizia Rinaldi se è presidente dell'associazione albergatori la classificazione degli hotel andrebbe rifatta perché quella di oggi è vecchia e superata e siamo in contatto col comune per pianificare interventi e controlli ad hoc e chiaramente quanto è accaduto squalifica anche l'offerta turistica situazione simile parole simile anche da Antonio Carasso presidente di promozione alberghiera Corrado della Vista imprenditore turistico e presidente di conflavoro aggiunge quando ho iniziato l'attività di albergatore ho dovuto fare l'iscrizione obbligatoria al registro imprese turistiche e al registro esercenti del commercio credo che un ritorno al passato attraverso l'istituzione di un nuovo registro sia una garanzia per i clienti ma anche per gli stessi proprietari sabato la cerimonia di tumulazione delle ceneri di Lorenzo Cagnone scomparso nel settembre del 2023 sarà un momento pubblico davanti all'installazione artistica che è stata posta all'ingresso del cimitero monumentale a pochi passi da quella dai monumenti funebri installati per Federico Fellini Irene Gru sarà le 10.30 appunto anche la cittadinanza è invitata e poi la politica per parlare già di regione di futuro Elena Ugolini in campo il centrodestra pronto a sostenerla si punta a ripetere l'operazione Guazzaloca quando un candidato civico conquistò il comune di Bologna in tanti dice Elena Ugolini in questi giorni mi stanno chiedendo di dare un contributo in vista delle elezioni regionali ho capito che ci sono le condizioni per poter costruire un progetto civico che cambi il modo di pensare al governo della nostra regione e avvicini anche le persone queste sono le sue prime parole ricordiamo Elena Ugolini è nata a giugno del 59 in quel di Rimini qui ha compiuto gli studi liceali poi si è laureata in filosofia a Bologna dove ha costruito la sua carriera tra vari incarichi anche nazionali preside del liceo Malpighi sottosegretaria all'istruzione e ricerche all'università nel governo Monti stiamo parlando degli anni tra il 2011 e il 2013 il via libera del centrodestra potrebbe arrivare presto anche se ieri il senatore bolognese Marco Lisei ha detto di Fratelli d'Italia non ci precludiamo nessuna strada ma anche che il candidato civico deve avere una capacità di attirare consensi anche fuori dal perimetro del centrodestra deve essere un nome affermato riconosciuto e stimato l'identikit della preside che osa il corriere e sempre dalle pagine del corriere continuiamo a sfogliarlo e andiamo a Riccione per raccontarvi le voci critiche nei confronti della notte rosa adesso basta frena le prenotazioni dei turisti Rita Liardiri dice i nostri hotel sono pieni in ogni weekend di luglio non servono eventi aggiuntivi arrivano troppi malintenzionati per la movida spacca tutto serve coraggio la giunta si tiri fuori poi dice diciamo che le forze dell'ordine riescono ad evitare il peggio gestendo bene le difficoltà e questo è un risultato che merita il plauso di tutti ma è tempo di fare un passo indietro per farne due avanti sempre Riccione è un importante riconoscimento per la chirurgia legata all'obesità chirurgia generale considerata un centro di eccellenza per obesi un importante riconoscimento per lo staff guidato da Andrea Lucchia all'ospedale Ceccarini e poi andiamo sempre a parlare di Riccione di una perdita di un lutto importante per l'intera comunità perché è venuto a mancare un uomo che è stato importante soprattutto per la politica riccionese è stato assessore è stato anche presidente dell'azienda di soggiorno stiamo parlando di Tiziano Solfrini Riccione dice addio a Solfrini un pilastro della città e della sinistra consigliere comunale del PC per 21 anni ex assessore presidente di Aeradria la sindaca lo ricorda in questo modo trasformò un borgo marinaro in una moderna località turistica e poi a cattoliche i dati di inizio anno anche qui si prendono e si scorporano i dati dell'Istat sul turismo maggio dei miracoli spinge la stagione con un più 37,9% sul 2023 riqualificare le colonie fattiscenti questa notizia arriva da Bellaria e creare parcheggi a silos multipiano i progetti di Nicola Missiani neoassessore all'urbanistica che dice massima attenzione alla sicurezza e alla mobilità green e poi a San Marino apre la 31esima legislatura ieri il giuramento dei 60 consiglieri nessun ricorso è stata confermata in aula la regolarità delle elezioni del 9 giugno nella squadra di governo tre segretari di Stato nuovi e ben sette conferme nella valle del Rubicone in particolare a Sogliano con questa notizia lavori per 70 giorni sulla provinciale 11 la protesta il comune è spezzato circa 50 cittadini manifestano in strada a Cadi Quaiotto nessun dialogo sulle modalità del cantiere dicono servono ristori e un percorso alternativo poi visto che poi c'è la pagina sportiva facciamo così facciamo una piccola pausa poi leggiamo le pagine di attualità e di cronaca del Carlino e poi insieme Corriere e Carlino proprio sugli approfondimenti sportivi tra pochissimo Oggi in Edicola Rassegna Stampa Oggi in Edicola Rassegna Stampa Ancora insieme per questa Rassegna Stampa del 9 luglio dalle pagine del Corriere ci spostiamo a quelle del Carlino ancora la cronaca brevemente leggiamo la mamma che si butta dal tetto col figlio la procura dispone l'autopsia su Graziana e il piccolo Manuel chi indaga vuole capire se la donna abbia fatto ingerire al bimbo di 6 anni prima del volo del benzo di azepine sotto sciocche ancora il compagno della donna e papà del piccolo Manuel l'uomo riminese già nell'immediatezza dell'accaduto era stato a lungo sentito dal personale della squadra mobile è apparso distrutto per la doppia tragedia che lo ha interessato il momento è accantonata anche l'ipotesi che possa aver avuto un qualsiasi contributo nello stato d'animo travagliato della donna e poi c'è il mistero del fiume Lorena era immobile senza vestiti la verità dagli esami sui corpi oggi saranno eseguite le autopsie sulla vezzosi e Stefano del re le procure vogliono capire se la donna fosse già morta al momento dell'inabissamento poi c'è anche questo tema di quanto tempo è passato dall'ultima volta in cui Lorena è stata vista alla tragedia avvenuta nel Cremonese nessuno infatti avrebbe visto Lorena uscire di casa la sera della morte e poi questa notizia ci porta invece alla nuova vita dell'ex questura che in realtà questura non è mai stata sgomberato lo stabile per fare spazio al cantiere gli agenti sono intervenuti in massa in via Ugo Bassi per far uscire gli occupanti abusivi in vista della demolizione appunto poi ci sono anche le dichiarazioni di Asi che spiega che l'immobile sarà raso al suolo entro fine ottobre di questa maxirissa in piazzale toscanina abbiamo già letto anche sulle pagine del Corriere denunciati tre giovani sinti la polizia di stato è al lavoro per risalire all'identità di tutti i protagonisti della zuffa questa è una notizia molto interessante che leggiamo sulle pagine del Carlino la Movida si sgonfia risse controlli locali in vendita nella vecchia pescheria quindi siamo nel cuore di Rimini chiusi alcuni dei ritrovi più frequentati del centro storico ci sono anche le dichiarazioni di Stephen Homerod che dice siamo pronti a cedere Foyer e Gate 1962 ci sono trattative in corso speriamo di concluderle entro fine mese chiaro che questi cartelli affittasi non possono nascondere il vuoto che c'è all'interno e anche la preoccupazione è che cambi radicalmente il volto di quella zona lo stesso Homerod cita anni un po' tribolati ricordando le tante risse i controlli le polemiche che per tanto tempo hanno caratterizzato un'offerta di locali concentrati in un fazzoletto nel centro città senza andare troppo in là con gli anni lo stesso Homerod nel novembre del 2022 a chiedere maggiori controlli proprio per le risse che si susseguivano all'interno della vecchia pescheria oggi i proprietari dei muri abbassano le richieste un tempo i canoni d'affitto erano esorbitanti e a proposito anche di offerte che cambiano è arrivato Starbucks a Rimini insomma il Carlino gli dedica un articolo non è nel cuore di una città ma all'interno di un centro commerciale insomma il centro commerciale Le Befane il titolo è un pezzo di America dentro Le Befane un punto vendita anche qui grande spazio al miracolo stranieri per il bilancio del turismo nei primi cinque mesi dell'anno una primavera d'oro così la definisce il sindaco Jamil Sadegolvade il sindaco sempre bussa ancora all'aeroporto presenze arrivi in crescita Rimini nei cinque primi mesi dell'anno ma chiaramente se vogliamo portare i turisti stranieri è importante lavorare in fretta e bene proprio sulle rotte aeroportuali la crisi dei negozi in primo piano sull'arresto del Carlino commercio la battaglia dei saldi a parlare già Maria Zanzini presidente regionale di Federmoda che dice i saldi vanno fatti in agosto farli ad inizio luglio anche se con partenza nello stesso giorno in tutto il paese non ha più senso arriviamo da una primavera inesistente con negozi che hanno ricevuto poco tempo fa l'abbigliamento estivo e adesso si va subito a saldo non è la scelta giusto questo è un sistema che andrebbe radicalmente rivisto queste le sue parole e poi a Viserbella dove chiude lo store la nostra ultima estate dicono i gestori Sergio Zanzini da scattino a gestore del negozio di abbigliamento dice dopo 40 anni avrò più tempo per mio nipote ma non finisce qui sarò felice di poter passare più tempo con Sebastiano dice ma insomma la speranza è che poi qualcuno possa ancora continuare a far vivere questa realtà perché lui dice qui è stato scritto un pezzo della storia di Viserbella e insomma quindi c'è anche da capire che cosa accadrà ma bisogna leggere l'articolo lo lascio alla vostra lettura questo elemento e poi i primi 90 anni di Gino Paoli ospite a Riccione una bella chiacchierata con Rudy Zerbi il cantautore si è raccontato veramente dalla sua vita anche le grandi occasioni artistiche che ha avuto proprio nella sua carriera la possibilità anche di veramente raccontare i sentimenti di tanti tramite le sue canzoni e sempre a Riccione risse i negozi chiusi camere vuote notte rose ora di voltare pagina lo ha detto la Leardini l'abbiamo già letto sulle pagine del Corriere lo dice anche il presidente il neopresidente dell'associazione albergatori Claudio Montanari che dice teniamo lontani i delinquenti perché perché c'è gente che gira non con il desiderio di fare acquisti o di fare una passeggiata vestita di rosa ma che magari nella tasca dice lui ha un coltello una dose di droga per cui anche le persone si tengono lontane da queste situazioni sempre nella perla verde terme cassa in scadenza e tante incognite la preoccupazione della CGL sullo stabilimento termale riccionese c'è assenza di investimenti e prospettive si muovono le amministrazioni locali perché il 28 agosto scadrà l'ammortizzatore sociale il 14 giugno CGL aveva chiesto un incontro alla proprietà per ottenere il mantenimento dei livelli occupazionali ma non c'è stata alcuna risposta e sempre dice la CGL che chiederà l'interessamento delle amministrazioni perché si tratta di una realtà importante sul territorio che però è un po' in caduta libera anche le recensioni arrivano tante critiche dai clienti a Cattolica ride vandalici negli stabilimenti la situazione è insostenibile la denuncia arriva dalla cooperativa Bagnini che dice in zona pontile le baby gang hanno campo libero ogni notte il pontile non è lontano dall'area dei cosiddetti 4 bar spiega Roberto Valdassari che è presidente della cooperativa e spesso dopo la mezzanotte o poco prima intere compagnie di ragazzi finiscono a bere e fumare tra la spiaggia e le scogliere con il rischio anche poi anche che le cose degenerino a bell'aria ma loro in acqua muore un turista svizzero l'81enne ha avuto un infarto mentre era in acqua davanti al bagno 95 pericolo scampato invece per una settantenne che si è sentita male a Digea purtroppo non c'è stato nulla da fare invece per l'altro l'anziano per la sicurezza la polizia locale arrivano i rinforzi sempre a Bella Regia Marina 8 nuovi agenti saranno in servizio fino al 15 ottobre il sindaco Giorgetti dice garantiremo un controllo più capillare del territorio e poi in Alta Valmarecchia si torna a parlare del ciclista morto di pari dei fattori investito da un'automobile e si indaga ora per omicidio stradale ha certamente in corso per capire se la donna che l'ha travolto stesse usando il telefono ricordiamo che ha proprio è andata nell'altra carreggiata colpendo i due ciclisti i funerali di fattori saranno alla chiesa dei frati a Villa Verucchio e poi a San Marino al via la 31esima legislatura tra new entry e tanti veterani ci prendiamo un po' di tempo a questo punto per lo sport e gli spettacoli sullo spettacolo mi soffermo un attimo su questa notizia matrimonio avventura terzi ne hanno parlato un po' tutti di questo evento avvenuto al Grand Hotel nel giardino del Grand Hotel sabato scorso a celebrare questo matrimonio laico è stato il presidente della regione Bonaccini che si è detto emozionato e quindi un momento speciale anche per lui concorso Rudolf Nureyev le promesse della danza al Galli dal 15 luglio la competizione riservata ai giovani ballerini gran finale con la star russa Polina Semionova e poi dicevamo lo sport perché ci sono anche notizie che ci riguardano da vicino intanto andiamo un attimo a Wimbledon perché è stato il giorno di Musetti lo sognavo quando ero bambino dice battuto il francese per Ricard tre italiani ai quarti oggi tocca Sinner con Medveded e Paolini con Navarro insomma non diciamo nulla perché qualsiasi cosa si dica in questi casi non è bene andiamo invece al calcio con il Cesena si parte 30 i convocati Mangraviti arriva oggi e firma mentre per il Rimini il sogno è Chiarella trattativa per Cisco dal sud Tiroli i biancorossi hanno necessità di ricostruire praticamente da zero il pacchetto degli esterni d'attacco e un'ultima notizia invece riguarda rinascita basket Rimini con Tassinari che saluta Marini sempre più vicino il play tornerà alla Rucera Rimini dice un'esperienza indimenticabile ho chiesto alla società di potermi guardare intorno e mi è stato accordato forse a 32-33 anni dice Tassinari sarebbe stato diverso ma ne ho ancora 28 e sento di avere ancora qualche cartuccia da sparare giusto al volo una notizia di sport anche le pagine dalle pagine del Corriere prima di salutarci Colombi fedele alla linea parliamo di calcio parliamo di Rimini orgoglioso di rimanere dice il portiere che è legato a Rimini fino al 2025 e spiega qui ho trovato una società di alto livello con un progetto importante anche nel caso del Corriere si parla di un Rimini che spinge per il prestito di Chiarella e a questo punto noi siamo giunti al termine della nostra rassegna stampa di questo martedì 9 luglio ora l'informazione a carattere nazionale con la rassegna stampa poi torniamo con il nostro primo Tg grazie e buona giornata oggi in edicola rassegna stampa a